Qualche tempo fa, in una video intervista di Radio Doppio Zero per quanto riguardava la cultura, abbiamo parlato di cultura panoramica con Silvia Cariello. Questa sera siamo proprio all'interno di cultura panoramica e adesso vi spieghiamo perché. Perché abbiamo qui vicino a noi Silvia che preghiamo di avvicinarci. Ciao Silvia, buonasera. Ciao a tutti, ciao. Allora, come abbiamo detto, questa è cultura panoramica, per cui ci ricordi di che cosa parliamo. Esatto, questa qui è proprio la casa dove è nata cultura panoramica nel centro storico a due passi dalla chiesa di San Francesco. Cultura panoramica nasce come un progetto di eventi culturali in casa. Ci siamo solamente spostati dalla terrazza, dal giardino pensile al salotto di casa, come potete vedere. Abbiamo pensato di allestire cultura panoramica all'interno, proprio per accogliere tutta la gente che ci è venuta a trovare, ci ha omaggiato nella sua presenza quest'estate, qui nel salotto di casa. Abbiamo pensato di allestire due aree della casa, due aree o due ali della casa, quindi l'ingresso dove generalmente adibiamo il buffet con le bevande e dei piccoli rinfreschi e poi invece di là, dove d'inverno pensiamo anche di accendere il camino, l'area concerti, teatro, l'angolo dove ospiteremo anche autori di libri. Senti, è cominciata la stagione invernale, diciamo. I prossimi appuntamenti, quelli importanti dei prossimi giorni, quali sono? Sì, allora, i prossimi appuntamenti sono giovedì 14 novembre con Lisa Manosperti e Paolo Martino, che presenteranno il loro progetto Nude, omaggio ai Radiohead, in chiave Jets. Vorrei ricordare che nell'area musica, dell'area musica se ne occupa Antonio Olivetti, che è un grande percussionista tarantino, oltre che un mio caro amico. Si è preso cura dei concerti sia quest'estate e con molto piacere ritornato ad aiutarmi nella direzione artistica. Mentre il venerdì, il 15, ritornerà a trovarci la Compagnia Pufa con la regia di Angelo Mansueto, con uno spettacolo teatrale, La Grande Magia di Edoardo De Filippo. Durante queste settimane stiamo promuovendo il tesseramento annuale a cultura panoramica, che riguarda appunto una fidelizzazione della clientela e con un piccolo contributo loro potranno accedere a diversi eventi, diversi appuntamenti che abbiamo intenzione di fare, di portare avanti nel salotto di cultura panoramica. Allora Silvia, ci fai da Cicerone, ci spieghi che cos'è questa parete. Sì, allora questa parete è una delle tante pareti di questa casa museo, questa galleria fatta ad abitazione. Sono vari omaggi di vari artisti pugliesi e non che hanno donato un po' a mia mamma durante il periodo Bed & Breakfast Domus Artis e un po' sono stati regali accumulati negli anni, regali oppure donazioni in generale. C'è anche lo zampino di molti artisti che abbiamo in famiglia, in primis la nonna, che è stata un'importante pittrice bitontina. Possiamo fare anche il nome? Certo, Maria Siena. E quindi in questa parete c'è un po' l'anima di questa casa, ripeto non è l'unica, però è quella più di impatto perché appunto si trova nella camera d'ingresso appena accogliamo i nostri ospiti. Allora Silvia, siamo adesso proprio nel centro di cultura panoramica. Sì, questo qui è il cuore perché appunto, come dicevo all'inizio, è la stanza che ospita non solo i nostri ospiti ma anche gli artisti. Quindi tutti coloro che vengono qui per presentare il proprio libro, il proprio spettacolo teatrale, il proprio disco in uscita, il proprio progetto musicale. Ovviamente durante le serate cambiamo un po' la disposizione dell'arredamento e in questo mia mamma è molto brava perché è un po' l'inter designer di questa casa, insomma. Ed è anche un po' merito suo se tutto questo c'è e si tiene in vita molto bene. Senti, allora fai i complimenti alla mamma perché tanto noi comunque stiamo continuando a vedere sempre le immagini di questa bellissima casa. Vorrei soltanto che ci spiegassi chi è questo signore alle nostre spalle. Sì, questo busso in realtà attira la curiosità di molti perché giustamente è un po' insolito trovare in una casa un busso e tutti ci chiedono ma chi è questa persona? È un parente, un avolo si può dire perché addirittura è il bisnonno di mia mamma ed è stato uno dei primi architetti ingegneri della città di Bitonto e di Palo.